Tu la tua vita la sistemi nel momento in cui fai pace con te stesso, nel momento in cui riesci a capire che il Signore te vuole bene, ti ha dato un sacco di doni, ti ha dato un sacco di cose che solo tu puoi mettere a frutto. E finché non lo fai, starai male e farai stare male il mondo intero. Questo è il problema di fondo, è il problema di tanti di noi, tante situazioni che viviamo quotidianamente e che producono costantemente delle croci. Quelle croci che hanno portato Gesù Cristo lì dove sta, ma che in realtà portano tanti poveri Cristi a soffrire. Dovremmo avere il coraggio di ritrovare davvero la nostra umanità, la nostra umanità. Perché questo non è questione manco di fede, è questione proprio di sensibilità umana che tante volte ci manca. Se non abbiamo la sensibilità umana, non possiamo avere manco la sensibilità cristiana. E noi, in nome di Gesù Cristo, in nome di Dio, troviamo il modo anche di giustificare tanti i nostri atteggiamenti, tanti i nostri comportamenti, scordandoci che la cosa più importante, una delle cose più importanti che il Signore ci mette in evidenza e che noi, se vogliamo essere grandi, se vogliamo sentirci grandi, se vogliamo davvero pensare di essere qualcuno, ci dobbiamo mettere a servizio degli altri. Guardate, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo e il servitore di tutti.